E dai eh, oggi challenge per Stephanie, da solo contro le duo Sarà complicato, sarà una partita difficile da portare a termine, ma ci proveremo Bene ragazzi, qui è Stephanie, bentornati in questo nuovissimo video di Fortnite Stephanie nelle duo? Vediamo un po' che cosa riesce a combinare Ma sì, complichiamoci un po' la vita, solo versus duo Non solo vanno fatte le kill, dobbiamo confermarle, uccidere il compagno, vincere la partita 99 persone da ammazzare, non sarà semplice Per fortuna ho la mia casetta di riferimento Give me a pump, please, I only need a pump Avrebbe un shotgun nel caso in cui non si fosse capito Scendi di sotto, apri la chest, ho messo una trappolina sopra così siamo un po' più tranquilli Ora andiamo subito di sotto, sotto eh Anche il fucile a pompa, meraviglioso Doppio pompa e chi caspita lo sa usare Il vampino ci piace, munizioni Avrei bisogno delle pozzoncine piccole per arrivare a 100 Dai, fai il bravo Due grandi, va bene lo stesso 100 vita, 100 scudo, se può fa Ho solamente mattoni, non ho trovato neanche un pezzettino di legno Ticca, tacca, ticca, tracca C'è un'altra cassa sopra, ora la vado a prendere Caccia, ci piace, prendilo Il doppio pompa a me non serve, tanto non lo so utilizzare Capiamo un po' se c'è qualcun altro a Borgobislacco adesso Di solito dovrebbe essere una meta abbastanza richiesta Chag-jag Molto bello, prendiamolo subito Una mela al giorno, toglie la sconfitta di torno No, la posso mangiare Perché non ho preso danno Ma che pizza Chest, chest, chest Un altro chag-jag Ma che cavolo Alla faccia dei regali C'è un'altra chest pure sopra Cosa mi potrebbe servire? Boh, lancia granate Nelle duo è complicato senza Lancia granate, lancia granate Gli scudini vanno bene Prendo il caccia, dai, al posto di quell'altro Bacchiamo il cesso e la partita è assicurata Ah, guardate cosa ho trovato Il carrello, raga Dove ce ne andiamo? Non lo so Il mondo io esplorerò Cosa caspita sta succedendo? Che cos'è sta roba? Oh cavolo Oh cavolo Ma cosa? Ma che Mi sono ribaltato, raga Questa cosa è incredibilmente leggendaria Ma se prendo il meteorite Poi prendo il carrello Che caspita succede? Niente Andiamo a corso commercio Ad ammazzare tutti quanti Anche se probabilmente Non ci sarà più nessuno Lo sta ritirando su il bastardino Oh C'è qualcun altro Ci sta sparando, raga Occhio Andiamo a tornare al 100-100 Il prima possibile Dai, 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 dai Bella lì Tutti a casa, dai Un po' di bordello L'abbiamo fatto Non male Qui ci avevano dato dentro pesante Magari c'è altra gente Non lo so Controlliamo E non ci sia più nessuno Perché non si sa mai E infatti E infatti, raga Cazzolina No, costruisci, costruisci Vaffanculo Non so che sei lì tanto, eh Oh Oh mio Dio Oh mio Dio Fatima Sti cazzo di jetpack maledetti Non riesco a sparare in aria Ve lo giuro C'ho un'ansia pazzesca Ma di che cosa stiamo parlando Io non ce la faccio No, no, no Dammi subito quest'altro qui E recuperiamo le pozzoncine piccoline Sono ancora vivo Io me lo sentivo E c'era ancora qualcuno qua Vediamo di recuperare la R Che adesso mi sa che è meglio Sta arrivando la safe Maledizione Sarebbe stato più carino Non prendere alcun danno E invece è inevitabile Comunque il chug jug Ci ha salvato la vita Non so se ve ne rendete conto Solo versus duo Portarsi a casa la partita Sarebbe un grande risultato E una grande soddisfazione Ogni due per volta Sto schifo di roba Veloce 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 66 Tanto noi siamo fortunati Andiamo a quella cassa E troviamo un medikit E' vero o non è vero E' vero o non è vero E' vero o non è vero Oddio lo trovo davvero Non ci sto credendo Spariamoci il medikitino Si può fare Ragazzi si può fare Calmi Concentratevi con me E ce la facciamo Rivoglio le mie pozzoncine No scherzo Voglio lasciare lanci granate Bella mossa Step Poi in quella casa Laggiù non ci sia qualcuno Ma di sicuro Ma di sicuro Sai Vigliacchi i camperoni Non ho munizioni Del lanciagranate Che è l'unica arma Che teoricamente Potrebbe aiutarmi Contro i fortini Andiamo in zona sicura E poi pensiamo al daffarsi Ho ansia In questo momento Ho tanta ansia Giuro Zona sicura raggiunta A questo punto Aspetto che arrivi fino in fondo Per capire dove è la prossima safe E a quel punto Ci costruiamo il fortino Hanno sparato Ma chi stanno sparando Non a me Vero o no Non a me Uh 86 belli Si stanno ammazzando Qua sotto Che è sto casino Raga Oh Sto capendo niente Via via Devo andarmene il prima possibile Non sto capendo nulla Quasi non ci credo Comunque abbia funzionato davvero Ucciso Bellissimo Ho aspettato Che lo rianimasse E poi l'ho ammazzato Bel fortino Prima di pietra Poi di mattoni E infine di legna Dove sono? C'era pure il lanciamissi Là sotto Ma ho dovuto abbandonarlo Perché stavo impazzando dal caos Fai che la safe Chiuda qua Per piaceri Sarebbe una partita leggendaria L'importante è che non ci sia Nessuno più alto di me Stanno spaccando roba? Oh cazzo Stanno spaccando il mio fortino Raga Che cazzo sta succedendo? C'è un altro laggiù Che mi sparava Ti rendi conto Stavo sotto di me Mi stava spaccando il fortino A mani nude Tutto completamente fuori Di testa Oh my god Uno contro due Si può fare Ragazzi Si può fare C'è anche il launchpad Volendo E anche il falò Che non si sa mai Sentite un po' Ascoltate me Io direi Andiamo a recuperare Laggiù la pozione Da 50 Perché è meglio Essere al massimo Eccoci Edi almeno ho scoperto Da dove mi spara Sto stronzo di merda Figlio di tua madre Oh Ma che cazzo è? È un cecchino Oh mio dio Ma che cazzo? Cosa ho appena visto raga? Cosa ho appena visto? Chiudiamo qua Veloce Pozione da 50 Help Sta puntando eh No 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 Cioè tu sei un giocatore Di questo gioco? Tu fai schifo Alla merda Fai schifo Solo con i lanciamissi Non hai fatto altro Tutto il tempo 8 kill rovinate Cari amici Questo video di oggi Termina qua Sono incazzato Come una bestia Non potete capire Cioè l'ultimo Uno contro uno Spari solo con i lanciamissili Perché fai schifo